salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di fare la campanina e di lasciare un like oggi vi spiego come mostrare gli fps, come migliorare le prestazioni su overwatch 2 e molto altro come potete vedere la grafica si vede più o meno uno schifo si vede uno schifo si vede e faccio 150 fps e vabbè perchè ho diminuito la scala di rendering quindi se vado su video scala di rendering personalizzata io ho messo 50 se invece la metto a 200 metto applica da 150 fps faccio 30 fps ma la grafica è migliore cioè guardate un po' il modello del personaggio molto bene quindi guardate un po' la differenza la 50 fps applico e guardate un po' come si vede se mi allontano un po' una merda diciamo così quindi poi come vedere gli fps su overwatch 2 è molto semplice andare su video dettagli mostra statistica prestazioni da off mettete on e scegliete cosa volete vedere mostra frame rate, temperatura gpu, utilizzo della vram io sto usando più o meno 2500 megabyte di vram della mia scheda video faccio applica eccoci qua oppure se invece volete aumentare gli fps perché io anche su un portatile di 300-400 euro puoi far girare questo overwatch 2 perché i requisiti consigliano più o meno come requisiti minimi di sistema consigliano schede video piuttosto vecchie ok? piuttosto vecchie poi la risoluzione risoluzione minima di display 1024x768 cioè questa è la risoluzione minima e va benissimo quindi non avrai problemi con la scheda video oppure con gli fps quindi stai certo che giocherai una favola come ho detto all'inizio la scala di rendering mi raccomando fai attenzione perché se metti 50 non ci vedi proprio niente sia da lontano che da vicino i modelli e i personaggi ma se invece metti più o meno 100% faccio applica vedo abbastanza bene i personaggi ma farò pochi fps poi un'altra cosa se avete problemi nel senso se avete impostato la grafica media alta gli fps sono rimasti a 60% è per cui se vai su video o qualità grafica no video frame rate non dovete mettere automatica perché se mette automatica mi sembra che te li blocca a 60 ah no adesso 98 quindi fate così allora qualità no video ok frame rate personalizzata frame rate previsto io metto 600 non è che farò 600 fps ma farà quanti la scheda video riesce a sopportare ok quindi io vi consiglio di giocare sulla grafica media rendering invece su 100 oppure sotto ai 100 frame rate mettetelo a 600 poi dipende dalla vostra scheda video quanti ne riesce a fare beh ad o te si riesce a fare più di 600 fps quindi poi se hai problemi con a vedere gli fps con questo gioco c'è un altro metodo quello di geforce experience e afterburner quindi se vai su nvidia driver danno di driver nvidia scegli la tua scheda video metto geforce 1060 super faccio ricerca scarichi questo driver lo installi e uscirà questo pannello geforce experience per nvidia per amd invece c'è amd radeon eccolo qua e se io clicco qua sopra questo apro la sovrapposizione di gioco che sarebbe questa che mi permetterà anche di salvare molti clip quindi adesso lo attivo quindi se faccio come potete vedere in alto a destra ci sono gli fps che sto facendo quindi se adesso premo alt più r si chiude se premo di nuovo si apre il pannello per farmi vedere gli fps quanti ne sto facendo invece riguardo a amsai after banner stesso procedimento scaricate questo programma lo avviate e come potete vedere sullo schermo mi sono appassi tutti questi grafici ma non è che appaiono così per miracolo diventa se ti esce questo tipo di monitor questo qui ci clicchi sopra o ci devo andare qua sopra ecco ci clicchi sopra qui ti permetterà di controllare anche i colori di posizionare un po' cioè di ridimensionare un po' i caratteri avete visto questo è personalizzare i grafici invece per attivarli andiamo su after banner impostazioni grafici eccoli qua quindi per esempio se io clicco su questa spunta temperatura c più 10 faccio applica apparirà sullo schermo come potete vedere se notate bene io ho zoomato nell'editing c più 10 è apparsa sullo schermo quindi puoi vedere gli fps su overwatch 2 attivando quell'opzione puoi vedere gli fps attraverso Nvidia il pannello di GeForce Experience e Ampsi Afterbirth quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like come un'è prego come un'è prego Ah!